Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono i singer degli iFabag e sono in compagnia di... TOO! E' qui, questo qui è un video speciale dove volevamo informarvi che c'è un Pokémon evento ed è Vivillon Motivo Sbarazzino. Si può prendere, grazie al dono segreto, nella schermata principale, andando via internet. Questo Vivillon si può prendere a livello 12 e avrà raffica, schermo luce, entomo blocco e mano nella mano. Ora io l'altro le conosco, ma mano nella mano no. Chierò bene. Questa è una mossa folletta, che è un folletto Vivillon? No, eccole ottero. Vivillon non è un po' conclusiamo come avete notato, quindi diciamo che ci interessa proprio ma è la questione di collezionismo. Sì, perché la questione della nazionalità e tutto quanto è in modo diverso, tipo c'era anche l'evento della forma Pokéball, che io non so assolutamente come si prende, se voi lo sapete, se me lo scrivete, mi fate in favore. Allora ragazzi, se voi volete collezionarli tutti e di vario valore sapete anche che c'è questo evento, non sappiamo chi ha quanto, quindi affrettatevi se volete averlo e fate donno segreto. È semplicissimo quindi ci mettete il maggio secondo. Eh già, quindi noi vi salutiamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!